Si è tenuto in tarda mattinata a Balletta l'incontro tra amministrazione comunale e Lidl per cercare di trovare una soluzione alternativa alla costruzione del nuovo discount a fianco al Castello Svevo. L'idea è quella della perequazione, uno scambio di terreni per farla breve. La proposta del comune alla Lidl è quella di un terreno sito in zona Barberini alle spalle dei 24 alloggi popolari di nuova costruzione frontalmente al Parco dell'Umanità. Ci troviamo per la precisione tra via Giulini e via Velasquez. La Lidl ha preso in carico la proposta e il gruppo leader nel settore valierà la stessa con la proprietà tedesca nella speranza di un accordo che possa conciliare le due parti a tutela del Castello e delle velleità commerciali del gruppo, al quale bisogna ricordarlo bisognerà pagare i danni per il cantiere già avviato e ora fermo per sette giorni. Attendiamo l'esito della trattativa.